domattina al via al tavolo tecnico per l'emergenza pifas in san michele di vampa la polemica tempio sario chiuso a sorpresa sotto feragosto visitatori delusi alla politica chiede certezze riporta le vacche in stalla dall'alpeggio per salvarle dai lupi che gliele ammazzano davanti a casa al festival musicale con coltelli e droga sfilza di denuncia romano dezzerino 57 anni di pianezza ubriaco offende i carvenieri bestemme al parco e finisce nei guai autunno caldo in vista rincari per le bollette e la benzina e il caffè a 2 euro diventa un lusso tre giovani altopianesi creano un progetto per dare consigli alle donne su come viaggiare sole in sicurezza la caserna dei carabinieri di gazzo verrà restaurata da oggi militari si trasferiscono a carminiamo di brenta buonasera e benvenuti al tg bassano apriamo questa edizione con il tema dei pifas di san michele perché domani finalmente è il giorno del tavolo tecnico indetto dal comune indetto dall'amministrazione di nicola finco con soggetti istituzionali per fare luce su questa situazione naturalmente poi vi daremo conto di quello che emergerà ma intanto vi diamo conto anche della polemica i pifas di san michele debordano il municipio dove in programma il tavolo tecnico richiesto dall'amministrazione di nicola finco a bassano arriveranno la protezione civile la provincia l'azienda sanitaria l'arpav il genio civile i forestali ed etra per il primo passo ufficiale verso la costruzione di un fascicolo sull'inquinamento in zona abbiamo voluto istituire questo tavolo tecnico importante che serve per monitorare la situazione dei fass nella zona di san michele ma soprattutto sarà un tavolo permanente che si troverà periodicamente con tutti gli organi competenti organi istituzionali e tecnici in modo poi da adottare le misure necessarie per trovare le opportune soluzioni a questo problema il sindaco ribadisce che l'inquinamento riguarda solo le acque superficiali e non quelle di falda che non stiamo parlando delle acque di falda non stiamo parlando delle acque che tutti noi utilizziamo quindi l'acqua della rubinetta ma stiamo parlando di acque superficiali di acque di ruscelamento quindi non ci sono problemi per la salute dei cittadini però ovviamente la presenza di questi fass va monitorata e poi decideremo anche con nienti preposti che cosa fare e c'è anche una risposta alle polemiche sollevate dall'opposizione che ha organizzato un incontro pubblico in cartellone il 2 settembre a san michele la mia amministrazione ha un modo diverso di lavorare rispetto alle opposizioni noi facciamo i tavoli tecnici con le persone esperte di questo settore loro fanno delle serate informative sono liberi di farle con gli amici di partito con i compagni colleghi che militano all'interno della stessa compagine politica solamente con uno scopo che è quello di creare e mettere zizzania insomma secondo il sindaco la faccenda della riunione in quartiera andava gestita diversamente se le opposizioni volevano organizzare qualche iniziativa con la presenza anche dell'amministrazione dovevano avere almeno l'accortezza di chiamarmi concordare i relatori concordare i temi della serata e allora si poteva fare una cosa assieme ma fare una serata di diciamo di approfondimento con solamente esponenti di sinistra e della sinistra radicale non mi sembra il massimo per affrontare un problema delicato come questo questo è un modo per dire che quindi lei non sarà presente il 2 settembre a san michele non sarò presente a questa riunione di partito ma avrò modo di informare i cittadini attraverso un'altra riunione che faremo come amministrazione a san michele e poi ovviamente avremo anche modo di informare i consigli comunali attraverso le commissioni competenti polemiche a parte domani seguiremo ovviamente la riunione del tavolo tecnico poi vi aggiorneremo sulle notizie sulle novità relative a questo importante problema che colpisce san michele ma in realtà tutta la città adesso cambiamo argomento perché c'è un altro problema che colpisce la città ovvero la chiusura del tempio ossario tempio ossario chiuso ancora e ancora una volta nel periodo di maggior afflusso di turisti e visitatori a bassano eccolo qui l'ormai solito cartello affisso alla porta del sacrario cittadino dopo l'apertura singhiozzo di questi anni chi passa lì davanti e conosce il problema ha capito che questi cartelli più che avvisi sono dei messaggi che lasciano trasparire una richiesta d'aiuto una presa di coscienza e di posizione da parte di chi si occupa del sacrario i fanti come altre associazioni combattentistiche hanno più volte dichiarato di essere in difficoltà nel garantire una copertura del servizio senza poter contare su una garanzia assicurativa completa poi ci sono questioni legate all'effettiva carenza numerica di personale al ricambio generazionale ma questi sono tutti problemi in qualche modo superabili se si riuscisse a trovare la quadra al triangolo dell'ossario tra onor caduti parrocchia e ministero intanto anche questa settimana sono stati tanti i turisti rimasti chiusi fuori dalla storia e dalla memoria alla porta anche le tante iniziative proposte da adotta un milite al tavolo di concertazione locale tra gli amministratori serve insomma una svolta che parta dal gioco di squadra da un coro unito e compatto capace di portare in alto e lontano la voce del territorio altrimenti la frase per non dimenticare rischia di diventare solo vuota retorica è chiaro che quando ci sono tanti attori interessati a questa partita diventa fondamentale sede sia un torontale anche con gli amministratori del territorio per trovare quella soluzione che in qualche maniera possa dettare dei tempi più compressibili e ammissibili per la sistemazione del monumento però i primi segnali li aspettiamo insomma da chi sta più in alto ma dal ministero insomma qualche segnale importante deve arrivare in maniera tale insomma poi da far rete e trovare una soluzione condivisa è una soluzione condivisa anche quella che chiede l'altopiano dei sette comuni ormai da giorni da settimane vi raccontiamo di continue predazioni da parte dei lupi che colpiscono allevamenti aziende agricole e non solo sentite questa storia io avevo le le vacche in marga frolla il comune di concco e ho dovuto al mese di giugno me le hanno uccise due io per salvarle le ho portate a casa ma non sono servite a niente questa è la terza protezione che mi hanno fatto savino colpo vive in contralazzera a concco proprio dietro alla sua abitazione i lupi hanno attaccato e ucciso una delle sue vacche l'ha trovata alle 5 di stamattina sventrata intorno sangue e pezzi di carne ovunque savino è amareggiato aveva cercato di proteggere i suoi animali spostandoli dalla malga fino a casa ma neppure questo è servito per salvarli i lupi non si fermano di fronte a niente i recinti elettrificati ci sono c'è pure il filo spinato ma tutto questo evidentemente non serve che ne avevano quattro tra le ho trovate che erano come spaventate e la quarta l'ho trovata a 20 metri come la vedete voi adesso squartata ma qui è stata più di una protezione non so cosa devo fare non so cosa devo fare venderle è la terza in due mesi da tre generazioni la famiglia colpo alleva animali in questo posto ma i rischi oggi sono troppi mentre l'allarme per le continue predazioni continua a crescere la gente dell'altopiano ormai è davvero esasperata ultimamente ci sono state una quindicina una ventina di predazioni qua sul nostro comune e sui comuni qui vicino insomma bisogna prendere una decisione se volete gli animali che tengono puliti il territorio o se volete i predatori che cosa si può fare secondo lei bisogna sicuramente o prenderli e spostarli in territori ma dove non ci sono persone animali oppure bisogna abbatterli perché qui nel nostro comune lusiana conco non 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 si possono uccidere 20 bestie in due mesi insomma se vengono uccise due o tre animali è una cosa ma 20 bestie noi ovviamente raccogliamo questo appello lo giriamo alle autorità vedremo se arriverà una qualche risposta su un tema davvero molto importante per tutto il territorio adesso passiamo alla pagina della cronaca si presentano al festival musicale con dei coltelli si presenta il concerto con un coltello lungo una spanna nascosto in un calzino ma finisce nella rete della sicurezza dell'evento e per lui sono guai un ventenne è stato denunciato per essersi presentato i calcelli d'ingresso del lama festival di romano dezzelino portando con sé un coltello a farfalla lungo 25 centimetri occultato in un calzino gli approfonditi controlli con il metal detector hanno però smascherato il giovane si tratta di un ventenne romeno senza fissa dimora pluri pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio per possesso di armi e oggetti atti a offendere agli agenti a corsi sul posto ha dichiarato di portare sempre quel coltello addosso per difesa personale è stato quindi portato in commissariato a bassano e denunciato a piede libero per porto abusivo d'armi sempre all'ama festival un altro giovane residente in alto adis è stato fermato con un coltello a serramanico lungo 20 centimetri nel borsello in buona compagnia di tre spinelli alla marijuana anche per lui è scattata una denuncia per porto abusivo d'armi una segnalazione per uso di droga e sempre all'ama festival i carabinieri di romano dezzelino con il nucleo cinofili di torreglia hanno trovato un 31enne della provincia di trento con due spinelli confezionati con asci se un 32enne in possesso di un grammo della stessa sostanza entrambi sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti militari inoltre hanno rinvenuto nascosti nella vegetazione altri 10 spinelli 3 grammi di asci e meno di un grammo di marijuana andiamo avanti con la cronaca perché a marostica un uomo ubriaco ha insultato i carabinieri e bestemmiato è stato denunciato un 57enne di pianezza è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale ubriachezza e bestemmia in luogo pubblico l'uomo lunedì pomeriggio si trovava nel parco di via panica marostica in evidente stato di alterazione psicofisica tanto che le persone presenti hanno richiesto l'intervento dei carabinieri il 57enne alla vista dei militari ha iniziato a proferire parole oltraggiose e offensive bestemmiando ad altavoce sul posto per placare la furia dell'uomo è arrivato anche il personale del suo m118 sempre i carabinieri della compagnia di bassano hanno fermato in via angarano un 46enne di marostica trovato positivo all'alcol test l'uomo è stato deferito per guida in stato di ebrezza gli è stata ritirata la patente e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo nei guai anche due diciottenni di tezze sul brenta trovati in possesso di marijuana e segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti ancora cronaca perché gli agenti del commissariato di bassano del grappa hanno denunciato un 25enne egiziano residente a milano controllato romano dezzilino alla guida di una opel zafina nella quale viaggiavano altre cinque persone il giovane ha esibito una patente egiziana contraffatta che è stata posta sotto sequestro il conducente è stato segnalato all'autorità giudiziaria per uso di atto falso falsità materiale e ricettazione cambiamo ora argomento passiamo alle vostre segnalazioni e io chiamo rete veneta lo spazio che da voce alle vostre segnalazioni ci porta lungo in marciapiedi di via emilia e via campania bassano che da anni sottolinea una nostra telespettatrice sono pericolosi e disseminati di erbacce ci passo spesso a piedi scrive e non è consentito togliere gli occhi da terra pena rischio caduta rovinosa e noi raccogliamo la segnalazione portandola come sempre all'attenzione di chi di dovere ma anche voi potete segnalare degrado rifiuti patume abbandonato quello che non va davanti a casa vostra ad esempio mandando un whatsapp al 340-321-8379 con foto o video possibilmente orizzontale una mail a redazione chiocciola rete veneta punto it come sempre verificheremo poi porteremo all'attenzione di chi di dovere cambiamo ancora argomento parliamo dei rincari in arrivo tanto che il caffè potrebbe diventare un bene di lusso il caffè resta un piacere anche se diventa un lusso è probabile che in numerosi bar il caffè appunto arrivi a costare due euro già a partire da quest'autunno si prevedono rincari in arrivo addirittura il caffè in alcuni bar potrebbe arrivare a costare due euro lei lo prenderà lo stesso sarò costretto altrimenti rinuncerò a questo piacere però è tanto sicuramente tanto non mi interessa perché non bevo lo prenderà lo stesso il caffè ma sì sicuramente anche se è un po troppo alto il prezzo io lo faccio a casa meglio preferisco c'è la macchinetta che ho pagato un toto pure e preferisco fare a casa il caffè e vado a lavorare una volta o settimana sicuramente non ci rinuncio però è ovvio che è un po un dispiacere questi continui aumenti comunque non ci rinunceremo di sicuro lei il caffè al bar lo prende raramente perché ho la macchinetta a casa quindi me lo faccio da sola io le prendo di più perché sono un ciclista quindi sono in giro soprattutto sul lago di garda abbiamo i nostri punti d'appoggio bar d'appoggio per il caffè quindi quello per forza il caffè arriverà a costare due euro al bar in quest'autunno vi chiedo se è un piacere che continuerete a concedervi o si risparmia un pochino sicuramente ce lo concederemo ancora perché il caffè non si rinuncia mai però però effettivamente contando quello che c'è fra il caffè e l'acqua non penso che ci sia quel valore mangiare non si rinuncia al divertimento si può rinunciare di tanto in tanto magari divertendosi in altro modo magari a casa un progetto che parte dall'altopiano e parla alle donne dando consigli su come muoversi da sole anche in vacanza senza rischi vediamo il servizio il progetto libere di viaggiare nasce appunto una durante una di queste esperienze in turchia e il momento storico era particolarmente delicato per la sicurezza delle donne e per le tematiche femministe e abbiamo deciso di dare il nostro contributo nello specifico parlando di viaggio di stereotipi e di quelle che ancora sono le difficoltà che una donna può incontrare prima di partire durante il viaggio e anche nell'organizzazione viaggiare sole viaggiare sicure è nata con questo intento la community creata da nicole martina e lara tutte tra i 28 e 29 anni tre amiche con la passione per il viaggio che dopo viaggi in solitaria si sono trovate a condividere le loro esperienze all'estero insieme e sui social da qui è nato un sito dove ognuno può trovare consigli su come viaggiare in sicurezza in paesi culturalmente distanti dal nostro durante i nostri viaggi ricevevamo un sacco di commenti riguardanti ragazze giovani che volevano viaggiare ma non trovavano il coraggio di viaggiare da sole senza una figura maschile nasce tutto appunto tramite i social con la nostra voglia di dare anche noi nel nostro piccolo il nostro contributo a tutte queste donne che ci hanno scritto e quindi sì al momento il canale principale quello poi appunto scriviamo articoli di fotogiornalismo collaboriamo con alcune riviste con alcune associazioni femministe noi diamo consigli che vanno dai trasporti all'organizzazione agli alloggi o a quelle che possono essere anche strumenti o applicazioni alternative ma già presenti sul mercato per facilitare appunto questi viaggi quello che ci sentiamo dire più spesso in realtà riguardano appunto le paure a volte reali a volte meno appunto quindi legate più a preoccupazioni quindi anche stereotipizzate quindi un po' quelli che sono poi gli stereotipi dettati anche della nostra cultura che non facilitano sicuramente una donna a decidere di partire un impegno quello di Nicole Martina e Lara che va oltre il loro lavoro rispettivamente archeologa imprenditrice agricola ingegnera edile quella del viaggio e della divulgazione è una passione che rincorrono con il desiderio di trasmettere la bellezza delle culture di popoli lontani organizzando anche serate informative per supportare le altre viaggiatrici nelle loro prossime avventure quello che fa paura secondo me è proprio l'ignoranza quindi per colmare l'ignoranza bisogna informarsi è la chiave di tutto quanto quindi informazione ed è quello un po' che facciamo noi con con la nostra con il nostro progetto condividiamo esperienze di altre ragazze condividiamo tips condividiamo reportage della nostra esperienza e quindi una persona può andare a informarsi e colmare con l'ignoranza quell'ignoto che si andrà a visitare una notizia di servizio che riguarda l'alta padovana con il trasferimento dei carabinieri da gazzo a carmeniano di brenta la sede della stazione carabinieri di gazzo padovano che copre i territori dei comuni di gazzo e gran torto da oggi a causa di lavori di ristrutturazioni si trasferirà per alcuni mesi nella stazione dei carabinieri di carmeniano di brenta in via verdi in questo periodo verrà comunque mantenuto un presidio nel comune di gazzo dove è stato allestito un ufficio per il pubblico in piazza 4 novembre che sarà accessibile dall'ingresso di fianco al municipio l'ufficio sarà aperto tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno il numero di telefono rimarrà sempre lo stesso 049 94 25 72 5 mentre per le emergenze si potrà sempre contattare il numero di pronto intervento 112 e ora ci spostiamo a campo da arsego per un compleanno davvero speciale un mazzo di fiori bianche e rose rosse per festeggiare un compleanno davvero speciale per la signora lucia che ha compiuto 101 anni lucia graziana nata a nervese della battaglia il 28 agosto del 1923 è una delle ospiti del centro servizi anziani mantegna di campo d'arsego sposata con gino ballotto ha vissuto a campo san piero e ha avuto due figli franco e patrizia che hanno festeggiato il compleanno con la mamma lucia ricorda ancora quando con la cugina si nascondeva treviso per paura delle bombe della seconda guerra mondiale per anni ha fatto la sarta ora i suoi passatempi sono giocare a carte a tombola leggere romanzi guardare film sempre sorridente e simpatica non si perde una messa e si rende sempre utile con piccoli servizi in comunità come piegare le tovaglie tanti auguri lucia che a 101 anni non ha disdegnato un bicchiere di vino per brindare allo splendido traguardo dopo di noi alle 21 e 15 una puntata di focus che si pronuncia molto interessante con il direttore luisi bacialli che avrà come ospiti leopoldo bottero pietro dalla libera andrea dan giuseppe marra michela morellato leonardo padrin rosa poloni e alberto ruggine questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ringraziamo per essere stati con noi vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo